Hai un manoscritto e non sai a quale editore rivolgerti? Hai pubblicato un libro e vuoi farlo conoscere? Vorresti che la tua opera diventasse un film o un documentario o venisse rappresentata in teatro? Vivere e raccontare potrebbe aiutarti. Come? In studio, con me e con te, editori, registi, produttori esprimeranno i loro pareri sul tuo progetto. E Aracne TV mandare in onda l'intervista. Vivere e raccontare, tutti i giorni dalle 15 alle 15.30 su Aracne TV. Ah, dimenticavo. Vivere e raccontare è un programma dedicato a tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo. Scultura, pittura, architettura, fotografia, fumetto, musica, danza, cinema e teatro. E naturalmente letteratura. La storia di cui parliamo oggi nasce della intima esigenza di raccontare in qualche modo il mondo della disabilità agli occhi dei bambini. A fare questo è Francesco Poggio con il libro di cui mostriamo la copertina intitolato Filippo. Poggio che oggi è qui con noi a vivere e raccontare. Buongiorno. Allora, intanto chi è Filippo? Filippo è mio fratello. Ha un anno in meno di me. E c'è quanti anni? 22. E diciamo che è la musa ispiratrice di tutto questo progetto e serve a dare uno spunto in più per conoscere una storia che è diversa dalle altre. Quindi il tuo fratello è il disabile. Esattamente. Non cammina sin dalla nascita, quindi è una tetra paresi, però tutto l'aspetto della disabilità è spesso ghettizzato e quindi era l'occasione per far vedere una realtà che è anche una realtà cruda, comunque serve a mostrare la realtà per com'è, però sotto l'aspetto diciamo un po' didattico, ecco, quindi dare le parole per descrivere la situazione e chi è Filippo. E Filippo ti ha aiutato in questa... No, Filippo mi diciamo che ha avuto un ruolo, è un esempio, è la mia musa ispiratrice. No, se lui personalmente ti ha aiutato. Non ha contribuito alla stesura del testo. Testo che se tu sei d'accordo, io mostrerei attraverso le immagini in maniera esaustiva, completa. Quindi chiediamo a Riccardo di mandare la prima immagine del libro e il testo dice, la mia sedia è diversa, ha due bellissime ruote. Eh sì, l'inizio doveva essere la sedia. La sedia è il rapporto che lui ha con questa sedia. Esattamente, soprattutto è ispirata a un fatto realmente successo, ovvero la sedia a rotelle ispira curiosità anche nei bambini, quindi è strana. E capita spesso che se un bambino gironzo intorno a mio fratello... La vuole provare? Sì, no, vuole toccare, vuole... Quindi è incuriosito, però succede che magari la madre, vedendo mio fratello, lo allontana al bambino. Che ha paura. Disturbare, esatto. E questo è uno dei problemi, perché benvenga che il bambino abbia la curiosità di qualcosa che è diverso, perché quella diversità non deve incutere timore. E quella curiosità può mettere allegria. Assolutamente sì. Quindi bisogna far conoscere che la sedia è diversa, ma è una sedia e benvenga anche con le ruote. Sono sempre seduto, ma la mia mente non è un deserto. Questa qua è, diciamo, una delle più forti che ho fatto e che hanno mosso, diciamo, la mano, perché spesso il deficit motorio, diciamo, suggerisce anche un deficit mentale che invece non... Non corrisponde alla realtà. Non corrisponde alla realtà. Dove non arrivano le gambe, arriverà sempre la mente. E quindi si rafforza, dico. Esattamente. Quindi ci sono capacità emotive, c'è un'ipersensibilità che è molto sviluppata. Quindi c'è una sorta di... La chiamo telepatia. Poi non è così, però, insomma... È un... Una sensibilità particolare. Esatto, un capire le emozioni da come cammina qualcuno, da come passi è... Dai passi è una forte capacità. In più. Esattamente. In certe forme di autismo, no? Che è un'altra forma di handicap, addirittura raggiungono una genialità. Esatto, esatto, esatto. Quindi... Invece c'è questa sorta di luogo comune, di prevenzione, di... Sì, purtroppo la disabilità è un po' ghettizzata e quindi si naviga nei luoghi comune. Il problema è sempre lo stesso, no? Si ha una diffidenza nei confronti del diverso qualunque... Esattamente, esattamente. C'è una paura che non ci deve essere. Perché poi qua c'è tanto di diverso, ma deve essere visto come normalità, perché non c'è... Addirittura come un valore aggiunto. Assolutamente. Paradossalmente. Esattamente, esattamente. Ma se metto il turbo, sono il più veloce. Sì, diciamo che era un po' il tocco che potevo dare al bambino che legge e ascolta questa frase qua, che è essere una frase, diciamo, che ispiri libertà, che faccia capire a chi legge che il famoso turbo si può poi rivedere nelle capacità emotive, nel caso di mio fratello, in questa ipersensibilità o di chi vive la disabilità, e ha altri punti a suo favore. Quindi il turbo è quello che chi è seduto può dare. Quindi agisce anche sotto forma di fatto ludico. Esattamente, esattamente, sì, sì, io dico sempre che sia per i grandi, deve essere un libro letto insieme. Certamente. Dalle parole a chi... La differenza d'età mi ha detto è un anno, fratello, fratello. Quindi siete praticamente cresciuti insieme. Esattamente. Ma prima di arrivare, di raggiungere questa consapevolezza e sapienza che tu hai, hai vissuto un momento di crisi nei confronti del problema? Oh, certo. Assolutamente. Quindi sei in corso in tutti quegli errori che ha reso tu segnali. Esattamente. È una tappa obbligata. Per questo io... E qual è stato quello più... Di disagio per te? Il, diciamo, il non capire, il farsi delle domande e non avere le risposte. È banale, ma perché mio fratello non cammina? Quindi perché io a tornare dall'asilo, facevamo asili differenti, perché io poi dall'asilo quando torno non potevo fare le stesse cose che facevo lì con mio fratello? E naturalmente queste domande tu le ponevi anche ai genitori. Assolutamente. E loro come hanno... E loro mi hanno sempre ovviamente detto la verità, cioè non c'era bisogno di mentire, perché Filippo è diverso dagli altri. Quindi ti hanno sollecitato in qualche modo. Esattamente, esattamente. Quindi hanno... Diciamo che se ho un pensiero, la mia attitudine a raccontare e la pazienza a raccontare qualcosa a cui la gente magari non può arrivare perché non conosce, la devo soprattutto a loro. Mi hanno sempre dato le giuste risposte alle domande. E invece Filippo, tuo fratello, si aspettava da te qualcos'altro? No, 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 diciamo che era un disagio più... Più tuo? Sì, più interiore, non so come dire. Erano domande che mi ponevo, ma poi non condizionavano il rapporto. Quindi avete giocato insieme. Pur che c'è... Io vi ricordo, lui sul divano e io che gli lanciavo la palla e seppur con ritardo lui si buttava da una parte o dall'altra. Ed era una cosa... era il gioco, quindi abbiamo ottenuto sempre un rapporto tra fratelli. Quindi diciamo che per un figlio unico che soffre di un handicap la situazione è molto più triste. È un disastro, sì, sì, sì. È proprio... C'è sempre... Sì, perché poi io posso anche fungere, tra virgolette, da compagno, da compagno di vita per certi aspetti ma anche il fattore amicizia è molto difficile, è obbligato. Quindi chi è solo è... Se vuoi essere gentile con me, aiutami ad arrivare dove io non posso. Sottolinea un po' la cura che devono avere i familiari e le persone che circondano una persona come Filippo. Quindi l'aspetto dell'aiuto. Dell'aiuto, ma è anche un modo per mettere in evidenza come chi soffre dell'handicap non si deve vergognare nel chiedere. Assolutamente. Questo è importante. Assolutamente. Molto spesso uno si chiude e non vuole essere aiutato. Come io posso aver bisogno di un passaggio in macchina, di una commissione o di un favore. Loro allo stesso modo, però insomma la cura deve essere costante e è una cura legata a dei bisogni primari. Quindi anche il mangiare e tutto. Però è un aiuto come tanti altri. Anche da parte di chi soffre l'handicap, dicevo, spesso si genera una sorta di chiusura. Ah, certo, certo. No, diciamo che deve... Non si vuole chiedere aiuto. Esatto, esattamente. Questo vincola molto la persona disabile e vincola anche chi è all'esterno, perché si mette in una condizione... Quindi ancora una volta è un problema di relazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. E la mia macchina ha un parcheggio molto comodo e speciale. E qui torniamo sul tema della carrozzina, vista come un privilegio. Esattamente, esattamente. Diciamo che il parcheggio degli disabili e la questione legata al parcheggio degli disabili è il riassunto di una società, io dico sempre, che non va. Che non va perché c'è chi consapevolmente occupa un posteggio che è essenziale per scendere. Perché se una persona è costretta a andare a casa e non poter parcheggiare e andare a farsi un giro... E anche per chi finge, simula un ente che è ancora peggio. Esattamente. C'è anche la terza triste realtà che c'è gente che non conosce come funziona un parcheggio per disabili. Quindi mi è capitato di fermare di chiedere a una persona, sempre con educazione, perché non so mai... Guardi che non può stare nella zona strisce che è riservata alla salita, alla discesa. E mi dice, no, 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 il parcheggio è questo qua, no. Quindi non sapeva come era fatto il parcheggio, ecco. Però, insomma, spiegato, poi non l'ha più fatto, ecco. Aspetto sempre l'estate per andare al mare. Che significa che anche lui può andare al mare. Assolutamente. Ed è una questione poi anche al giorno d'oggi. Per fortuna ci si sta attrezzando per... Per rendere possibile l'accesso. Per rendere accessibile. Non è una cosa normale, scontata, però penso che... Ma è obbligatorio per chi gestisce gli stabilimenti balneari. Esatto, però è... Non... Cioè, quando uno non è a conoscenza di un problema, quando non ha a cuore una tematica, gli sembra tutto un alieno questo discorso qua dell'accessibilità e tutto. Ma invece, con normalità, la spiaggia, poi da Ligure, deve essere accessibile. Certamente. Qualcuno... Però non deve essere solo affidata alla buona volontà dell'individuo, deve essere un fatto istituzionale. Cioè, ci deve essere un regolamento, una legge che lo impone. Esatto. Ci sono dei piani di abbattimento delle belle architettoniche. Poi, nello specifico, non so se coinvolge anche nello specifico lo stabilimento balneare. Io so solo che spesso è quasi a costo zero e basta poco. Quindi, il problema sono sia le istituzioni che non si fanno carico, ma anche la collettività. Perché alla fine, per togliere tre gradini e fare una rampa, è una collettività, si può muovere e attrezzarsi. Comunque, siamo ancora indietro. Urca, tantissimo. Io ho invitato a teatro delle persone disabili, mi hanno detto, quel teatro non dispone di un'attrezzatura e di un accesso. L'obiettivo è continuare a parlarne. Continuare a parlarne e far sapere che dobbiamo entrare ovunque. E quindi parlarne ai bambini e per parlarne ai bambini il modo giusto è questo. Esatto, creiamo una generazione attenta e non impaurita dalla diversità. Ed ecco la mia sdraio, perché quella è l'asdraio che è stata concepita per il disabito. Esattamente. Ed esiste in commercio. Sì, 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 assolutamente. Ha un costo, se non mi sbaglio, non è molto economico, non è accessibile il costo. Va bene, ma c'è uno stabilimento balneare se lo può permettere. Può permettere, sì. Voi andavate al mare? L'accessibilità, la non accessibilità agli stabilimenti non ha mai fatto scaturire una passione per il mare. Lui è più tipo da canotta e aperitivo come persona. Però l'ho voluto mettere perché è un tema necessario per raccontare l'ennesimo aspetto in cui il disabile è ghettizzato. E quindi è privato di un sacrosanto diritto che è quello di andare al mare. Comunque, insomma, si sta aprendo la questione, anche nello sport, ci sono degli esempi molto forti. Lo sport è, diciamo, quel mondo parallelo che poi prepara e simula quello che è la vita, poi lo sport. E quindi ha un impatto con il mediatico che è forte. Stanno distruggendo, grazie allo sport, lo sport per disabili, loro stanno distruggendo le barriere architettoniche. E questa è una cosa, io ho una stima, non è solo la stima umana di chi fa quando in realtà potrebbe sembrare che non possa fare. Però stanno dando un messaggio ben chiaro. Io comunque a volte mi stupisco della capacità che hanno, proprio fisica. Urca, sì. A me colpisce molto. Come fanno? Ci sono i classici nomi, ma io ho visto qualche partita di basket in carrozzina, per esempio. La coordinazione a palleggiare, passare, mentre devono anche andare avanti. Quindi con le stesse mani sopperiscono al problema delle gambe. Voi avete partecipato a qualche gara podistica, ho sbaglio? Esattamente, sì, sì, sì. Abbiamo fatto una mezza maratona e adesso facciamo qualche 10 chilometri, 11 chilometri. E tu ci hai mandato un articolo, mi pare, di Repubblica. Esattamente. E in pratica abbiamo fatto questa mezza di Arenzana, mezza maratona, sono, mi sembra, 21 chilometri e qualcosa. Ed era la prima che facevamo. Ed è stato divertente. Ma tu, scusa, tu spingevi la carrozzina o era... No, io spingevo la carrozzina e Filippo mi motivava. Quindi è stato un esperimento super riuscito. Perché la maratona era aperta a tutti. Sì, 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 sì. Ed era l'unico a partecipare? In quel caso sì, però girando un po', poco tempo, ho visto che ci sono gruppi di persone che accompagnano. C'è anche un progetto di organizzare qualcosa, di diventare un punto di riferimento per chi magari è sulla carrozzina e vuole partecipare a qualche corsa. Ci sono già molte associazioni, ma... E possiamo giocare in tanti modi. Ovviamente intende insieme... Esatto. A chi non ha delle disabilità. Esattamente. E qui è carino perché fa vedere e illustra come chi sta sulla sedia può trainare giocando... Esatto. ...chi è sullo skate. Beh, sì, è sempre legato al fattore amicizie e relazioni. E qui c'è qualcosa di autobiografico? Lo avete mai praticato questo gioco? Abbiamo fatto... Beh, io diciamo che quando lui si mette sulla carrozzina elettrica mi metto dietro a modo di rimorchio e si fa qualche giro in sala, ecco, a casa. E sì, diciamo che c'è qualcosa di autobiografico, sicuramente. C'è anche un sogno non realizzato, ma comunque una speranza di vedere che questo possa... possa essere un gioco che lui possa fare con qualcun altro che non sia io, ecco, quindi... Ma lui ha degli amici che lo vengono a trovare? Assolutamente, assolutamente, poi lui, ripeto, col teatro, adesso lui fa teatro, e quindi ha trovato un gruppo di amici, una compagnia teatrale meravigliosa... Ad Arenzano. Ad Arenzano. Che si chiama? Il sipario strappato. E quindi ha trovato, diciamo, uno sfogo, un tempo libero... E un ambiente giusto, favorevole. E un ambiente perfetto, giusto e fanno funzionare tutto, quindi il merito è anche di... E tu collabori con loro? No, faccio lo spettatore e i loro spettacoli che sono fantastici. Che sono stanziali o girano? Come spettacoli, se non mi sbaglio, hanno anche... Fatto una piccola tournée. No, in programma di fare qualcosa, ha fatto un progetto con la CIA anche... Il teatro funziona? Il teatro funziona, io non lo conoscevo il teatro, l'ho conosciuto tramite mio fratello, poi, ed è qualcosa di eccezionale, da proprio... come lo sport, è un altro mondo parallelo che aiuta, secondo me. Aiuta a capire. Aiuta a capire molte cose. Anche se sono un po' diverso, io vorrei fare tante cose. Eh, tantissime cose. Tantissime cose. Esattamente. E posso farle. E si possono fare tutte. Magari in modo riferente, come vedremo adesso. Esattamente, ma tutte, quindi ci sono tantissime storie di persone che hanno e stanno conquistando il mondo su due ruote, quindi si può fare tutto. Sono un ottimo giudice sportivo. Mi pare di aver visto o letto qualcosa del genere, di un disabile che arbitrava una partita. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Nella magia dello sport, lo sport raggiunge poi gli ambiti più disparati, a livello di integrazione. Non posso giocare, ma anch'io pratico questo sport. In un'altra forma. Esattamente. Una forma diversa, ma nel concetto è la stessa e quello che fanno è strabiliante. Mio fratello, nello specifico, non può praticarlo per via di una manualità scarsissima a livello, diciamo, strutturale. Però spero che magari, ho immaginato che il lettore potesse essere anche un bambino sulla carrozzina, ma che può praticare lo sport. Quindi ho detto, magari si può rivedere in un libro per bambini. Vorrei fare Poliziotto, il cuoco, il faraone, il motociclista. Oppure la rock star. Ma tutte queste cose non posso farle da solo. E questo è il punto, no? E questo è il punto, perché... È l'invito tuo a interagire. A interagire, a non spaventarsi e a muovere una collettività che si muove già per certi versi insieme, ma li lascia sempre da parte. Invece non c'è motivo. Non c'è motivo, anche perché è un darsi reciprocamente. Urca, assolutamente. Questo è importante. Assolutamente. Non è soltanto una forma di aiuto, di pietà. Anzi, non deve esserlo. C'è l'aspetto della compassione con cui io lotto sempre contro, perché la compassione va bene se è condivisione del dolore, ma non c'è sempre, non ci deve essere per forza il dolore dietro una carrozzina. È solo una carrozzina. Quindi c'è un mondo dietro la carrozzina, però poi rimane una sedia. Questo però è il pregiudizio più forte da ammattere, più resistente. Assolutamente. È molto la vita. Perché riguarda la propria intimità, la propria pensiera. Esattamente, esattamente. È proprio così. E infatti, più siamo, meglio è. E ti riferisci ovviamente al mondo misto tra disabili e non disabili. Esattamente. Vediamo l'immagine con cui concludi questo libro, in qualche modo anche divertente, e questo era un po' lo scopo. Esattamente. Ma molto istruttivo. Essere diversi ci rende unici. E questo lo dice tutto. Ah, orca. Sì, sì, sì. Questo è sia per chi è su una sedia, sia per chi non lo è. La diversità ci rende unici, particolari. Il mio essere diverso è... sono io. E tu in cosa sei diverso? Sono diverso nel voler continuare a togliere tutti questi pregiudizi radicati e nel responsabilizzare anche magari chi come me vive una situazione del genere e però non ne parla o non fa di tutto per sdradicarla via. Quindi se in questo ti senti diverso vuol dire che la maggior parte delle persone non fanno questo. Esattamente. parlavi del teatro, ti ha aperto tuo fratello a questo mondo che ti è piaciuto, ti ha entusiasmato e quindi perché non farlo insieme a tuo fratello? Urca, è una bella idea e diciamo che potremmo attrezzarci per farlo, assolutamente. Allora, con l'augurio che tu possa fare presto anche questo, ti ringrazio, salutami Filippo. Grazie a te, grazie mille. Che vedrà la trasmissione. Urca, assolutamente, assolutamente. Grazie. Grazie a te, grazie a te.